Al primo dicembre erano 262 i positivi a Caltanissetta da un ultimo report inviato dall'ASP con solo 5 nuovi casi. Aumentano i guariti, sono 82 a fronte di due decessi avvenuti lunedì 30, un paziente di Caltanissetta e un paziente di Campofranco. Sono in tutto 46 i positivi sempre al primo dicembre, i nuovi contagi. I ricoverati sono in tutto tante malattie infettive tra il reparto del Santeria, il vettore Emanuele Di Gela e la RSA 10 in terapia intensiva.